Uomini e donne, Giulia De Lellis ripensa ad Andrea il dettaglio social che non è sfuggito ai fan. Alcuni giorni fa hanno iniziato a circolare rumor sulla presunta fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Peretta. L'influencer e il rampollo, sin dall'inizio della loro relazione, si sono mostrati sempre sereni e affiati sui social. Poco tempo fa, però, The People ha rivelato che Giulia non si sarebbe presentata al compleanno della madre di Carlo. In aggiunta, non le avrebbe fatto pubblicamente gli auguri. Ciò ha fatto insospettire i fan dell'ex Jeffina che, dopo aver assistito ad una serata di Sanremo 2023, è subito volata negli Stati Uniti. Poco dopo il suo arrivo in America, Giulia avrebbe fatto trapelare un ulteriore indizio a supporto della tesi su una presunta rottura con Beretta. Tutto è cominciato prima che la 26enne arrivasse allo State Farm Stadium per assistere al Super Bowl 2023. Un'occasione imperdibile per l'influencer, per la prima volta spettatrice della finale del campionato di football americano. La De Lellis ha però condiviso un video piuttosto ambiguo. Nel filmato pubblicato, Giulia è apparsa commossa nel sentire la canzone Stai, di Mickey Eccu e Rihanna. Quest'ultima, proprio al Super Bowl ha annunciato la sua seconda gravidanza. È stato questo il brano che ha mandato in tilti da Amelis, i fan della coppia formata da Giulia e Andrea Damante. Amatissimi protagonisti di Uomini e Donne nel lontano 2017. Durante il dating show di Canale 5 i due appassionarono i telespettatori. Molti di certo ricorderanno ancora l'ultima esterna della coppia, prima che il DJ scegliesse la giovane di Zagarolo. I momenti trascorsi dei due, avvolti in un tenero abbraccio, furono accompagnati proprio dal brano Stai. Ad indurre i fan a pensare ad un ritorno di fiamma, anche il commento dell'ex corteggiatrice. Che nella Instagram Story ha scritto, Disgson, questa canzone, con due cuori spezzati. Nonostante i presunti indizi, ad oggi l'influencer non ha dichiarato alcun case sullo stato della relazione con il giovane ereditiere. Allo stesso tempo, l'ex-tronista è attualmente impegnato in una relazione con la modella e attrice Lisa Visari. Zaine 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 e ai miei da ho avuto ha fatto che da sus, che da sus, che da sus, che da sus ford'io sasà